Da Roma a Milano dove prosegue il tour elettorale del candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che critica proprio la sinistra sui temi del lavoro. Io tutte queste realtà, inclusi alcuni sindacati, queste sedicenti realtà di sinistra, le ho viste all'opera in questi anni e sono quelli che promettevano di stare dalla parte dei lavoratori dipendenti e poi li hanno traditi. Quindi io con queste persone qui non ho molto da dirmi. Voglio parlare invece con i cittadini, con quelli che oggi hanno un contratto a un mese, a mezza giornata, a una settimana. Quelle categorie lì che hanno serie difficoltà non solo a trovare un lavoro, ma quando lo trovano vivono uno stato di guardia perenne perché non sanno mai quando glielo annullano.